Finora abbiamo visto tante, tantissime testimonianze riguardanti i prodigi e le conversioni compiuti da Padre Pio, o meglio, da Dio per intercessione di Padre Pio, su attori e per attori e cantanti del passato. Nella testimonianza di oggi, invece, vedremo che Padre Pio non si è mai fermato e continua ad operare anche ai giorni nostri. La testimonianza di oggi riguarda un attore che anche noi giovani conosciamo. Sto parlando dell'attore americano Shia LaBeouf, che ha recitato in film conosciuti tipo Transformers, Constantine e Indiana Jones. L'attore ha raccontato l'incredibile vicenda all'arcivesco americano Robert Barron. Ecco cosa dice Shia. Ero caduto in depressione. La mia vita era disordinata, violenze, abuso di alcol e droghe. Nel 2020 ho toccato il fondo. Per questo, nel 2021, ho deciso di mettere da parte la recitazione per disintossicarmi e riabilitarmi. Mi vergogno di ciò che ho fatto in passato e mi dispiace per aver fatto soffrire gli altri. Non c'è davvero molto di più che io possa dire al riguardo. Avevo una pistola pronta sul tavolo. Non volevo più vivere. Poi l'ha chiamata improvvisa. Conosci Padre Pio, mi fu detto. Ovviamente, risposi di no. Lo cercai su Google. Mi fu offerto di interpretarlo in un nuovo film del regista Abel Ferrara. Inizialmente, ammetto che lo feci solo per me. Volevo rilanciare la mia carriera. In più, in quel film c'erano attori famosi del calibro di Defoe. Ora so che Dio stava usando il mio ego per portarmi da lui. Per portarmi via dalla bramosia del mondo. Ho passato molto tempo in un convento per prepararmi al volo. E credetemi, non ci sarei mai andato se il mio solo pensiero fosse stato unicamente quello di salvare la mia carriera. Padre Pio mi ha salvato. Per me questo non è stato solo un film. Ma io lo chiamo e lo definisco un viaggio verso la salvezza. Mi sono convertito e sono diventato cattolico. Che bella questa storia. Che a me personalmente, avendo la stessa età dell'attore e avendo visto molti dei suoi film, fa comprendere ancora più da vicino quanto Dio tramite Padre Pio possano davvero operare miracoli e conversioni anche nel cuore di coloro che non conoscono Padre Pio. Grazie per aver ascoltato questo video e alla prossima! Grazie per aver guardato il video!